Il tratto che fa di me un così efficiente cacciatore di ebrei è che, contrariamente a molti soldati tedeschi, io riesco a pensare come un ebreo, mentre loro pensano solo come dei tedeschi, più precisamente dei soldati tedeschi. Ora, se si dovesse stabilire quale caratteristica i tedeschi condividono con una bestia, sarebbe l'astuto e predatorio istinto di un falco. Ma se si dovesse stabilire quale caratteristica condividono gli ebrei con una bestia, sarebbe quella dei ratti. La propaganda del Führer di Goebbels dice più o meno la stessa cosa. Le nostre considerazioni però differiscono. Nel fatto che io non vedo il paragone come un insulto. Prova ad immaginare per un istante il mondo in cui vivono i ratti. È un mondo ostile, effettivamente. Se un ratto dovesse zampettare verso la tua porta, proprio ora, saresti ostile con esso? Immagino di sì. I ratti hanno fatto qualche cosa per generare questo tuo astio nei loro confronti? Diffondono le malattie, muodono le persone. I ratti hanno causato la peste bubonica, ma molto tempo fa. Mettiamola così. Qualunque malattia che i ratti possono diffondere può essere portata anche dagli scoiattoli. Sei d'accordo? Uì. Ed io scommetto che nei confronti degli scoiattoli non provi lo stesso astio che provi per i ratti. No. Eppure sono entrambi i ruditori, no? Ed eccetto la coda sono anche piuttosto simili. È un concetto interessante, colonnello. Tuttavia, per quanto possa essere interessante, non fa la minima differenza con quello che tu provi. Se un ratto dovesse entrare proprio adesso, mentre ti sto parlando, lo accoglieresti con un bicchiere del tuo delizioso latte? Probabilmente no. Mmm, non l'avrei mai detto. Non ti piacciono? Non sai per davvero perché non ti piacciono? Ciò che è certo è che li trovi ripugnanti.